Incertezza, disoccupazione, instabilità, mancanza di prospettive, precariato, fino a 30 anni a casa con i genitori. Per salvare questo Paese abbiamo bisogno della buona politica, pensare globale, agire locale. Abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di lavorare. Siete tutti invitati alla festa di presentazione del programma dei Giovani Democratici di Ettaglia Palmarola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.